Il nuovo piano di zona traffico limitato a Palmi, la cosiddetta ZTL, sta creando una serie di polemiche tra i cittadini, l'amministrazione e la polizia locale. Polemiche e critiche che si accendono di animosità, come avviene in questi casi, soprattutto sui social. Ma a chiarire le nuove regole di limitazione al traffico ci pensano il comandante dei vigili, Francesco Managò, e il sindaco Giuseppe Ranuccio. La ZTL estiva, che nella sua interezza entrerà in vigore il prossimo 15 luglio, quest'anno interesserà un'area più ampia, da Piazza Libertà a Via Roma fino a Piazza Primo Maggio, già presente in inverno. La ZTL in realtà è un tipo di scelta urbanistica che è già operativa da anni. La novità di quest'anno sicuramente è costituita dal controllo elettronico dei varchi, dal sistema di controllo elettronico dei varchi. Palmi ha voluto diventare, essere una città civile, moderna, come molte città, soprattutto del centro nord Italia. Da noi c'era purtroppo l'abitudine di chiudere i varchi, la zona ZTL, quindi a traffico limitato, le aree pedonali, con delle transenne, che sono assolutamente indecorose e non sono degne di un paese civile. Dovrebbe bastare la segnaletica, la segnaletica sappiamo che non è sufficiente e quindi Palmi si doterà di varchi elettronici per la lettura delle targhe. Quindi abbiamo dei sistemi centralizzati di lettura targhe che leggeranno le targhe dei veicoli non autorizzati che transitano appunto nella ZTL, e inviando chiaramente le relative sanzioni. La sanzione per la circolazione della ZTL è di circa 80 euro, quindi sono sanzioni abbastanza elevate. Ovviamente viene sanzionata sia la sanzione che eventualmente se uno poi si ferma con l'auto all'interno della zona verrà anche aggiunta la sosta in area non consentita. Ovviamente c'è una deroga, ci sarà una deroga per i residenti che vengono muniti di autorizzazione o per determinate categorie di utenti che potranno chiaramente transitare con o senza l'autorizzazione, per esempio, per portare un esempio, i disabili. Quindi coloro che sono muniti con trassegno per disabili europeo potranno accedere nella ZTL comunicando preventivamente le targhe a noi, alla polizia locale, in maniera tale da poterli inserire nella white list, che appunto consentirà nel momento in cui passa la macchina di non venire rilevata come infrazione. A breve entrerà in funzione la ZTL moderna, elettronica, diciamo, come avviene in tutte le città grandi, importanti e moderne che vogliono andare nella direzione delle smart city appunto. Rientra nel contesto che abbiamo voluto di pedonalizzazione parziale della piazza, perché come sapete abbiamo voluto che quattro quadrati importanti di questa bellissima piazza divenissero isole pedonali permanenti, lasciando la viabilità nel corso della settimana, inibendola poi durante le feste, la domenica o l'estate e la sera. E devo, non posso non ringraziare il comandante della polizia locale che è sempre attento, sempre vicino a seguire quelle che sono le indicazioni, l'indirizzo politico, diciamo, dell'amministrazione e a concretizzarlo con progetti come questi che rendono palmi davvero all'avanguardia e ci permettono di valorizzare al massimo questa nostra bellissima piazza. Grazie a tutti.